Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata con crema pasticcera e fragole senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la pasta frolla senza glutine, farina senza glutine o miscela per dolci senza glutine, un uovo e un tuorlo, burro, scorza di limone, zucchero, vanillina, lievito per dolci e sale, per la crema, uova, latte, zucchero, amido di mais, scorza di limone e aroma di vaniglia e fragole e zucchero a bello per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Per prima cosa iniziamo a preparare la pasta frolla senza glutine. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di limone e lo zucchero. e li facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, l'uovo e il tuorlo, la farina senza glutine o miscela per torte senza glutine, il lievito, la vanillina e il sale. ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. formare un panetto, avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in frigo per almeno un'ora. nel frattempo prepariamo la crema. Mettere all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere il latte, le uova, l'amido di mais e l'aroma di di vaniglia ed azioniamo il bimbi per 8 minuti 90 gradi velocità 4. la crema è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente. trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, togliamone una parte e stendiamo il resto tra due fogli di carta da forno. dopo aver steso la nostra frolla trasferiamolo in uno stampo per crostate rettangolare da 36 x 14 cm con i rebbi di una forchetta bucherilliamo il fondo mettere la crema sul fondo e livellare bene mettere le fragole ricopriamo la crostata con la frolla sbriciolata con le mani cuocere in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa la crostata è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo spolverizzare con zucchero a velo e servire crostata con crema pasticcera e fragole senza glutine grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti